Economia Reale, questa settimana una puntata davvero particolare su un tema di posto di poca conoscenza tra virgolette della massa e quindi ancora più difficile da comprendere per chi magari non era a conoscenza, ma lo sarà tra qualche istante con il dottore Piero Coppola, benvenuto dottore. Buongiorno a voi. Allora parliamo dei riconteggi IMU per quanto concerne i terreni agricoli, argomento che nel nostro territorio, nel nostro comprensorio interesserà sicuramente tanti soggetti. Allora che cosa significa riconteggiare l'IMU per quanto riguarda bisogna rifare i calcoli in quanto a causa della previsione del decreto IRPEF che introduceva il bonus di 80 euro, Renzi è stato costretto a trovare una copertura finanziaria in modo diverso e ha ben pensato di recuperare circa 350 milioni di euro tassando i terreni agricoli che fondamentalmente in passato non lo erano. Ecco, terreni agricoli che, attenzione perché vado per inciso, anche chi è iscritto nei cosiddetti coltivatori diretti, sarà costretto a pagare, pur pagando già essendo iscritto da coltivatori diretti un'altra tasca. Pagando un reddito porfettario che viene determinato in base poi a dei coefficienti di normalizzazione per l'allevamento, per la cultura. Delle proprietà o quant'altro. Va bene, la normativa previgente, partiamo da questo. Certo, la normativa previgente aveva distinto in effetti i comuni italiani in tre fasce. C'erano i comuni montani, i comuni parzialmente montani e i comuni non montani. Che cosa succedeva? Che per i comuni montani non c'era alcun tipo di tassazione IMU. Per i comuni per i quali c'era una parte del territorio che veniva considerato montano era esclusa questa parte e veniva tassato solo i terreni che erano considerati non montani. Gli altri venivano comunque tassati. Oggi la nuova normativa divide sempre in tre fasce i comuni, però ha completamente cambiato la struttura della stessa norma, in quanto si calcola sull'altitudine il parametro. Esisteranno comuni fino a 281 metri, per i quali se sia coltivatore diretto o imprenditore professionale agricolo, anche se iscritti alla cassa di previdenza di appartenenza, comunque bisognerà pagare. Tra i 281 metri e i 600 metri pagheranno soltanto coloro che posseggono dei terreni a titolo diverso da quello di coltivatore diretto. Io che ho un orticello mio e mi vado a dilettare pagherò limo anche su quell'orticello. Di pochi metri quadrati insomma. Qualunque sia, il limo viene calcolato poi sulla rendita, moltiplicato per un coefficiente per aggiornare la via di 100. Per i comuni invece che superano i 600 metri non pagherà nessuno. Ora capiterà giustamente che chi non ha mai pagato limo in funzione della vecchia normativa sarà costretto oggi ad essere chiamato a un nuovo esborso. Allora, chi ha i vigneti in montagna può stare tranquillo per certi versi. Ma mica tanto, mi consenta, perché che cosa succede? La posizione di un comune rispetto all'altezza sul livello del mare è calcolata dalla posizione della casa comunale. Allora, io le faccio una domanda. Si immagini lei i comuni per esempio delle cinque terre oppure i nostri comuni della costiera amalfitana che presentano il comune posto a un'altitudine e i terreni ad un'altra. Che cosa accadrà? Che cosa accadrà? Non lo so, te lo dica lei. Manco noi ancora. Siamo in attesa di un decreto che dovrebbe uscire a momenti e ci consente effettivamente di fare i calcoli. Di fare un po' più chiarezza su questa vicenda. Esattamente. Ecco, a quanto può ammontare il minimo, diciamo, di un pagamento IMU rispetto a questo riconteggio? Allora, si è dato un'idea che non possa superare comunque il 2,50%, però il 2,5 per mille, credo scusa, però è tutto opinabile perché dobbiamo vedere effettivamente poi il decreto di attuazione che cosa stabilirà. Complessivamente devono recuperare 350 milioni di euro. Ecco, mi sembra che come diceva anche lei prima, a microfoni spenti, è come insomma tirar la coperta su o giù a seconda delle situazioni, ma comunque sia ci rimane una parte scoperta, come dice il dottore De Filippi. Sì, io ringrazio il dottore Coppola, lei è stato molto chiaro, speriamo di avere questa chiarezza anche rispetto al nuovo decreto per quanto riguarda il quesito che ci ponevamo insieme prima. Economia Reale finisce qui, grazie al dottore Coppola. Arrivederla.